eccoci qua di nuovo con una nuova apertura di queste da amate padre esatto già sappiamo come funzionano loro hanno 5 strati invece che 7 e l'apertura è sempre la stessa andiamo a vedere chi si trova qui vediamo che cosa avremmo trovato stavolta c'è questa oro le avevi già tutte tre quindi ne trovate ancora un'altra se trovo splash queen me la tengo perché mi piace qui c'è il capellino qui c'è l'acciozzoletto aspettate ragazzi oh è splash queen si che bello la borsa è sempre quella classica c'è l'ho presa a caso eccola qua l'hai presa a caso si diciamo che lei ha guardato ma premetto una cosa che l'ho presa a oro ma l'ho presa a caso nel senso che comunque sarebbe capitato ugualmente perché ne avremmo presa ne abbiamo presa due quindi c'era un'altra apertura e quella sostanza quella sopra era oro quindi questa sarebbe comunque capitata esatto quindi anche a fortuna sarebbe venuta oro niente ragazzi alla prossima questo è splash queen alla prossima instagram seguiteci su instagram iscrivetevi al canale attivate la campana che fa dindon e alla prossima ciao ciao